L'innovazione nel sistema finanziario. Tomorrow's Peaks, quattordicesima edizione, l'evento annuale di CRIF. Un momento per capire quelle che sono le nuove sfide, i nuovi trend della tecnologia, in particolare dell'intelligenza artificiale. Se ne è parlato nella sessione Dati e AI per il Corporate Management. Noi stessi oggi, nell'ambito del credito alle imprese, io credo che non saremmo più in grado di erogare se non avessimo l'intelligenza artificiale. Quindi questo per noi è chiaramente con diversi gradi, ma sicuramente su tutta la parte delle piccole e medie imprese, l'intelligenza artificiale ormai occupa un posto dominante, predominante, su tutti i processi del credito. La cosa difficile oggi è che in un'auto integrativa, che è un PDF che ti arriva dall'azienda, hai testo e hai tabelle, quindi fagli leggere la tabella, fagli capire la tabella, è già difficile. I conti intermedi di bilancio, la dichiarazione tributaria, mettere insieme queste cose qua per tirare fuori cosa? Una proposta di credito, un'istruttoria di credito. Noi stiamo lavorando su questo, quindi non è una cosa di anni. Tipicamente direi che tutta la cyber security ad oggi è gestita dall'IAI. Cioè il fronteggiare gli attacchi, che comunque voglio dire sono sempre più frequenti, randomici e potenti, è ovviamente già frutto di questi componenti di intelligenza artificiale che stanno nei motori di sicurezza che tipicamente le banche comprano o affittano a seconda del loro business model. Qual è lo stato dell'arte in Banco BPM? Ma io lo definirei, se potessi proiettare un'immagine, proietterei l'immagine di un grande cantiere. Avete presente i cantieri, quelli grandi, brulicanti di attività con gru, operai, anche con un po' di polvere, con un po' di confusione di fondo? Perché ci sono decine di progetti o di attività o di applicazioni, un po' allo studio, un po' in fase di test e un po' applicate che stiamo utilizzando. Che cosa consente di fare oggi l'intelligenza artificiale? Beh, facendoci dare immediatamente i conti correnti, guardando i flussi dei conti per i passati 12 mesi, noi abbiamo sviluppato, grazie a Machine Learning, un sistema di score che ha, a questo punto, siamo al quarto release, una eccellente capacità di prevedere il default di quella impresa nel, diciamo, un paio di anni successivi. Grazie a tutti.